ciao ragazzi benvenuti nella ciopeca di morduk non è vero un beccolo intende la ciopeca cosa di brutti non sono buona cia se non è giusto un morduk in verità non seguono ma con altri giochi non è vero l'importante è crederci c'è un riscaldamento andiamo da che dimensione che zona dove andare come te pare io vado contro i dpx che ti teleporti ok vado a pulisse così lo faccio perde dai apposta allora grazie inizio della mattina ha già iniziato manco dopo di fare di fare il pro se il provare di sapere che io e le mette ragazzi sono global elite che bello sto rumore non so voi ma mi piace un sacco tu non stai bene 13 13 13 no ma è la vita di loro ero io ho ucciso 1 mazzaro no ok era sprint c'è la tia davanti a tia mi ha ucciso io sto facendo dei kill e quello che lo sto davanti mi ha ucciso il cibo non c'è qualcuno c'è un altro mio dio che voglia a scello mazzaro stigato oggi ma porca non amore una merda devo riuscire a fare dei punti maledizione ulisse dai dai tanto perdi non muore da resi dai non muore sto spiriti ragazzi sono spiriti mortali e io ammazzaro spiriti non muore ma non morivo a me morta da dietro chi era arcana il maledetto ma spiriti in merda non muore mai non muore dai non c'è credo spiriti facciamo avvenuta ok ma c'è l'arma mia verità ma gli hanno dato al soli tu le da non muore questo no dg ma ho beccato quel cuocino le zone di essere nabbo vecchia che stanno uccidendo male è pure che non so muori ma dimmi come va a saprezzente e lui ecco che bello c'è colpi morto che c'è un percorso il tetto fai schifo ma lento faccio schifo un buomo e massacro a tutti quanti quando ci sono qualcuno qualcuno spirito ammazzato bravo e ammazzato lo spirito del mondo come fatto a cedermi da lì che dice c'è il minino pezzo di scemo è chiuso non vale ma ci vuole l'arte quello di dove 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 qualcuno un letto con auto stato stato sta chiedendo ma peccato quantità ti ho fatto lo stronzo e ti piace succhiare vedo vedo che è molto esperto in certe cose quindi bravo bravo chiedo non muori ai ragazzi non ho visto uno nell'angolo che brutta coesi garset ragazzi c'è da esi esi stai scherzando via quasi ma cosa vuoi un lezzo tu sei un bustato in realtà è vero la testa a riuscire o chi era questo ma spirito non muore se i ragazzi immortali io lo ammazzano due volte già muore non muore mai e allora sei nabbo tu forse peggio di me poi avevo chi la no 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 mi sparano dai ho ucciso qualcuno ha deciso spirito ucciso quattro altri ucciso spirito però almeno quello che prendono campionato quava esci guarda dove dove non c'era nessuno quando si arriva da ospiti in merda c'è stato facendo come un assassino che morire ma guarda che no mo io e che night maledetto pd merda su camera dove dove un amico 82 con il punto no sono morto dei danni da caduta già votare con ma che è una cosa davvero di merda la cappa è successo personale ma arrivati sto arrivando e sto bene perché me sei a 0 da sotto non vale e si anche da me la sopra un ucciso qualcuno aia 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 con me che dai di testa minimo dovresti non morire ma quasi a quali è giustante mi riportano poi chi dagli e dagli e dagli e dai beccato si lo beccato in testa dove dov'è ma guarda maglia chi era visto un morto che volare ho visto a noi che non lo becco lui sì ma che problemi c'è altro gioco proprio gioco e c'è problema ci sono delle cose che mi dico molto a faccio ok volta faccio doing no e dai non era ancora rimanato sono ancora otto ma il ferro di rosso arrivo io spazio azienda ma esiste una merda con un altro cese qualcuno non so chi è da ulisse che ritorna da ritorna un lezzo ucciso ucraifo l'ho scaricato mentre sparavo stardone io lo ammazzo quindi vuol dire se dove c'è problemi è da non amore ho ucciso qualcuno e la madonna qua ma sono piaciuto ti piace dove in faccia ah io ammazzo sempre spirit quindi spirit non è così mortale io odio la gioia l'ho colpito io star di darmi le kill che fa non c'è delle armi migliori c'ho la glock di merda è scherzato che non si parli di chi della madonna e c'ho questo fucilone di merda che non fa la kill che non ho fatto che il spirit ma mazzaro 2 che palle quello con la no non morì da gente qua ma erano e l'uno fanculo ma entrambe non ho potuto o c'è qualcuno l'ha dal cortello che è spirit spirit non è che non era a porta il spirit voglio l'ammazzo spirit e mazzaro solo spirit in verità quello neanche gesù però è no di qua di qua di qua che bello sono ultimo oggi c'è qualcuno è grazie buongiorno ha vinto spiriti quando è arrivato ma dai togliato secondo io seguiamo l'ultimo vostra viato ultimo fate l'odio va bene parte che si fa schifo noi ci vediamo nel prossimo video questo non video sui canali di mordog e quindi lo chiamo mordog su palazzo suo e buoniamo monastro di che meglio ciao ciao ragazzi ciao ciao